L'editoria per ragazzi può offrire stimoli alla curiosità, alla sensibilità e alla creatività di ogni bambino. È con questo intento che Rita Bergami e Paola Cristofori hanno deciso di aprire una nuova libreria per i più piccoli, dopo altre esperienze analoghe vissute in passato, che voglia diventare uno spazio a disposizione delle famiglie per leggere insieme e dare vita a laboratori creativi. Testa per aria è un progetto che io e Paola abbiamo coltivato nel tempo. Ci è sempre piaciuta l'idea di poter proporre questa libreria che fosse a misura di bambino, ma non soltanto perché è una libreria che noi pensiamo di poter aprire anche a lettori più grandi e perché no magari anche a genitori e a insegnanti. Ci piaceva poter creare questo spazio in cui non soltanto fare delle proposte editoriali di qualità, ma anche uno spazio che potesse proporre delle iniziative di promozione della lettura. Per cui abbiamo pensato a mettere in atto anche delle iniziative di narrazione, incontri con l'autore, mostre di illustratori. Quindi volevamo che fosse un progetto intorno al libro e intorno alla lettura. Abbiamo fatto una selezione di case editrici a cui tenevamo in particolar modo. Abbiamo fatto un lavoro molto lungo di selezione dei titoli per dare una maggiore scelta e una qualità maggiore a tutto quello che poteva contenere questo spazio. L'inaugurazione ufficiale avverrà sabato 9 dicembre alle 18 in Via dei Romei con l'intento di comunicare ai più piccoli il valore aggiunto che in un'epoca digitale ha ancora un libro cartaceo. È sicuramente uno strumento di crescita e di arricchimento importante per tutti, direi grandi e piccoli. Grazie. Grazie. Grazie.